Allora, Michele, secondo Putin, la guerra in Ucraina l'abbiamo scatenata noi. L'Occidente, così ci chiama, l'Occidente. In Ucraina sono tutti quanti gay, terroristi, nazisti, cattivoni. Solo in Ucraina? Solo in Ucraina, ci sono solo in Ucraina. In California, no. Di remando anche in California, ma sono tutti in Ucraina quelli veri. Ok, quelli veri, 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 quelli cattivi, cioè i gay cattivi. Ci sono di più a Castro, a Madrid, a West Hollywood. Eh, però tu questo lo dici soltanto perché sei di parte, sei occidentale. I miei tre coppie di vicini. E poi, secondo Putin, e su questo forse è l'unico punto su cui ha ragione, le minacce legate al nucleare possono veramente fare la differenza nell'opinione pubblica occidentale. Perché anche in questo discorso, peraltro discorso in ritardo di sei mesi, si aspettava l'anno scorso e poi invece non l'ha fatto, è finito per dire che lui ritira la Russia dal trattato START, che è il trattato di non proliferazione. E oggi, su giornali, social e via dicendo, tutti a dire, cazzo, ma allora veramente vuol buttare l'atomica? Vuol veramente buttare l'atomica? E allora è meglio forse che ci ritiriamo da quel paese di gay nazisti chiamato Ucraina. Ha fatto un discorso delirante e visto che siamo vicini all'anniversario dell'invasione russa in Ucraina, mi pareva il caso di parlarne un po' e di far capire un po' perché seguire questo criminale mentecatto forse non è esattamente un buon consiglio del Padre Eterno. Io direi, anzitutto, che se è stato un criminale, temo purtroppo che non sia un mentecato, o meglio, in un certo senso lo sia, che deve avere questo uomo una struttura emozionale, percezione del mondo, assolutamente un po' deviata. A me pare che quelli come Putin, sai, c'è una vecchia punto di vista pseudo-cattolico, tutti gli esseri umani sono buoni. Ora, adesso non so cosa intendiate buoni, nel senso che tutti gli esseri umani probabilmente a qualcuno o qualcosa esprimono affetto. Iter, notoriamente, aveva un amante, dicono, amorosa, e sembrava amasse molto il suo pastore tedesco. Però, guardate che, se si intende buoni nel senso generico della parola, cioè che la maggioranza degli esseri umani ha una profonda empatia per gli altri esseri umani, non è vero. Alcuni sono cattivi, davvero, è per quello che merita ucciderli. Ah beh, cioè, non ho sondazione d'accordo. Da parte di quelli, quindi secondo me non è menteccato, è semplicemente venuto fuori per mille ragioni, con una percezione del mondo, degli altri esseri umani, del suo ruolo nel mondo, che è quella lì, quella per cui lui può ucciderli. Ed è bene ucciderli se hanno certe caratteristiche che vanno uccisi, se non vanno uccisi vanno messi in prigione, vanno umiliati, vanno repressi, vanno sbeffeggiati, se sono donne vanno violentate, se sono bambini vanno deportati e così via. E questo è ribadito, ovviamente a tutto questo, da una giustificazione ideologica, che noi siamo depravati, drogati, eccetera, eccetera. Ma se ci pensate, quella giustificazione ideologico-religiosa è andata a tutti i cattivi del mondo, tutti. Certo. Ce la sono quasi sempre presa con quelli lì. Adesso se la prendono meno con le donne, ma solo indirettamente, avrà menzionato le donne di sicuro, ce l'avrà con l'aborto di sicuro, ce l'avrà con il fatto che c'erano le minigonne. Che, quando lui ordina, non gliela danno, cose di questo tipo. Anche perché non può più andare a fare i festini ad Arcore, quindi mi sa che da quel punto di vista lì ne vede poca. Beh, insomma, una persona nel suo paese purtroppo ce ne sia. Mi sembra che tutto questo sia nient'altro che la copertura ideologica che molti come lui nella storia Europa e non solo d'Europa hanno usato per giustificare il loro enorme, incontrollato, patologico desiderio di violenza e dominio. Quelli che si tirano fuori, tipo Papa Francesco, l'anato che abbaiava. Non lo so bene come qualificarli, lascio la parola a te. Ma guarda, quello che hai detto in realtà è una cosa secondo me molto importante, perché quando hai detto ci sono persone cattive, questa è una cosa che noi abbiamo dimenticato. Anche perché un po' culturalmente, e questo è uno dei frutti anche, diciamo così, rovesci dello stare in una democrazia, dello stare in un mondo dove la violenza vista e vissuta è sempre minore rispetto ad altre zone del mondo, rispetto ad altre epoche, anche la disabitudine al vedere e riconoscere la violenza ci ha portato in qualche modo a pensare che i violenti siano soltanto, non so, delle persone sfortunate o gente che non è ben capita. E c'è questo psicologismo che cerca di far ritornare tutti quanti i comportamenti violenti a traumi infantili, a rovesciamenti educativi. Io la chiamo la sindrome di Frankenstein, ok? Io è un romanzo che amo molto Frankenstein, però Frankenstein ha inserito nell'animo culturale occidentale l'idea che ogni mostro sia nato buono e diventi cattivo per colpa della società. La vecchia idea di Rousseau, l'uomo nasce buono, poi la società... La vecchia idea di noi cretinetti, i sessantottini, Marcuse, siamo tutti buoni, vogliamo passare il tempo a cantare, degenere sull'erba e scopare. A volersi bene. Però la civilizzazione ci ha corrotto, per cui lavoriamo, produciamo, rubiamo, violentiamo. Troiate. Troiate tra l'altro con zero giustificazione. Tutta l'evidenza dice esattamente l'opposto. Su questo ha ragione il tuo Pinker che ami tanto. Alla fine, negli enormi limiti, negli enormi fallimenti che poi la natura umana impone, siamo riusciti, passi in passetto, proprio controllandolo, a ridurre abbastanza il livello di violenza e di brutalità che pratichiamo. Però continuiamo a praticarlo, perché fra di noi è piena di gente che non voglia di praticare. E la percentuale di quello che hai spiegato dalla famosa società cattiva è francamente poco. Specialmente se per società cattiva si intende la società che permette a Ricca e Michele di parlarsi. Certamente. La società capitalistica. Capitalistica di libero mercato, questa roba brutta, brutta, brutta. Vedi, ti ho partito qualcosa. No, questo è un punto essenziale. Un messaggio di un russo. Perché se da un lato c'è appunto, se voglio fare un parallelismo che a me è molto caro, da un lato tu hai il Frankenstein, quindi appunto il mostro che è cattivo perché lo fanno diventare cattivo. D'altra parte, per esempio, se vogliamo appunto fare questo paragone, c'hai Dracula. Ok, Dracula è un romanzo che mi sento molto legato, perché l'idea espressa nel Dracula è che ci sia un qualcosa che serpeggia all'interno dell'umanità che non è razionalizzabile. Cioè, quando Van Helsing si trova di fronte al vampiro, lui dice chiaramente, c'è questa bellissima pagina in cui lui dice no, col vampiro non ci puoi ragionare. Col vampiro non puoi star lì e metterlo sul lettino del dottor Freud e farlo entrare in contatto con i traumi infantili, il complesso D&D, poi tutte queste robe qua. No, il vampiro va combattuto. Perché? Perché è una maledizione che non puoi assolutamente... Non puoi estirparla con il ragionamento. E quindi tu hai invece appunto questa entità, questo che definirai quasi archetipo, che ti dice guarda che nel mondo il cattivo c'è e non c'è niente da fare. Quando te lo trovi di fronte non puoi fare nient'altro che combatterlo. E Putin in quest'anno ha incarnato questo aspetto, perché anche nel discorso di oggi le palesi menzogne, le palesi menzogne, ma una su tutte, il fatto che sia l'Occidente aver scatenato la guerra sempre con quella balla di propaganda, che è una balla dimostrata non da governi, non dalla CIA, non da Biden, ma da ONG, ovvero che in Donbass ci fosse in qualche momento degli ultimi vent'anni un dominio neonazista che massacrava e stuprava e distruggeva, quella balla è stata ancora una volta al centro di questo discorso. E quindi è una balla che da un lato mi viene da dire funziona, perché se ancora in un discorso così importante di fronte a reti russe unificate, che non credo siano tante le reti russe unificate, però comunque che quando però arriva anche di qua riesce a convincere ancora un sacco di gente, beh mi dico porca miseria, c'è un sacco di gente che si è convinta. Ma io non ci credo che sono convinti, non ne ho trovato uno, uno in un anno avrò invitato, da cominciare dal lotto a continuare o di Berlusconi, quello che si chiama Tony, non mi ricordo, ho invitato almeno una decina di questi giornalisti di moda, cioè quello che si chiama Tony da Pordenon, che era di lotta a continuare del PC poi è andato a lavorare per Berlusconi, a quello lì che banna a tutti che mi chiama Alcolizzato, come si chiama Nico Piro, scandaloso questo, l'unica roba che vuole far vendere libri, a la professoressa, quella l'idegariana milanese, a Cacciari stesso, abbiamo scritto privatamente, io e Adriano Massimo, Adriano l'ha anche visto quando è passato per Venezia, niente, non ho trovato uno disposto a venire alla discussione aperta, uno, uno di questi guru delle stronzate che ha stato Putin, che venga a dire ok mi siedo lì e discuto per un'ora, un'ora e mezza, guardiamo i documenti, ci guardiamo la storia assieme, su sta idea che è stato la Nato che ha aggredito, aggredito la, cioè la richiesta ucraina di entrare in Nato, lì sarà il 2008, certo, e la Nato stava soprassedendo, rimandando, e comunque, ripeto, anche fosse entrata nella Nato l'Ucraina, cosa che dopo 15 anni, 14 non era ancora avvenuta, forse che la Lituania non era nella Nato, e la Lituania è piena di missili atomici, e comunque che problema c'è, nel senso che questo qua, con tutte le balle della geopolitica, ma mi vogliono spiegare in che senso la Lituania nella Nato, o l'Ucraina nella Nato, o la Bielorussia nella Nato, o la Georgia nella Nato, costituirebbe un pericolo per Santa Madre Chiesa Russa, il pericolo per Santa Madre Chiesa Russa, sono i sommergibili atomici americani, che loro non riescono a vedere, aspetta un attimo, ferma, piccolo problema con, no ci sei, c'è solo un piccolo problema, ci sono i sommergibili atomici americani, e gli EF, non mi ricordo il numero, stealth americani, con le bombe atomiche vere, che gli arrivano con i ballistici, che gli arrivano in testa in 5 minuti, quello è lavoro a minaccia, se vogliono giocare, al gioco della minaccia atomica, e lo sanno benissimo, tant'è che oggi fa la scenata, di nuovo per intimorire gli europei, che lui sospende il coso, quando di fatto lo sta violando, sta violando le provision, di questo ennesimo salt, da anni, e c'è scritto su tutta la stampa internazionale specializzata, sono balle così truculente, che davvero devi essere un poveretto italiano, giornalista, che si guadagna a vivere raccontando bugie, per crederci, e fa spavento vedere questi ragazzini, e anche questi adulti, fare, non so, i ragazzi che ci credono, lo fanno per puro odio al mondo in cui vivono, o cosa? Ma su quello non c'è dubbio, questo l'abbiamo discusso tante volte, non c'è dubbio che, quelli che hai anche citato tu, i vari cacciari, ma anche tutti i redattori del Fatto Quotidiano, prendano queste posizioni per anti-americanismo, anti-Unione Europea, anti-capitalismo, perché di nuovo ricordiamoci, che Putin incredibilmente riesce a diventare, quasi una bandiera degli anticapitalisti, in una roba che fa ridere i sassi, ragazzi, questa roba, questa cosa qua, cioè, veramente uno a capo di un'illigarchia, basata sul capitale, che diventa bandiera di quelli, o bandiera nascosta, perché poi questi si vergognano un po', cioè non è che vengono a dirti, ah, bravo Putin, ti dicono, non bravo Putin, perché lo sanno anche loro, che Putin è un criminale, pazzo, genocida, non pazzo, un criminale genocida, però ti dicono che in realtà, eh sì, però anche l'America, eh però Biden, eh ma vedi i Twitter files e queste cose qua, e si perdono per strada da questo punto di vista, non c'è nulla a fare per quello che non hanno argomenti, perché è ancora quell'idea che hanno sviluppato in quel 68 che prima hai citato, e che li porta a dire che tutto ciò che è occidentale e americano è merda, e quindi tutto ciò che contrasta qualsiasi storia, narrazione che va a coadjuvare il loro anti-americanismo diventa, diventa materiale utile da propagandare. Ma sono scemi anche loro, cioè vogliono davvero combattere quello che è brutto dell'America, ma lo combattano in merito, lo combattano sul merito, perché se vogliono vincere, su alcune cose potranno trovare anche me, cioè ieri che ne so qualcuno mi ha coinvolto su una discussione sulla sanità americana, ne ho dette di pesanti, nel senso che la situazione della sanità americana va peggiorando a mio avviso, il potere monopolistico dei medici eccetera è sempre più forte, la politica americana non ne parla, e sta degenerando a mio umile avviso, cosa di cui la gente come me che fa il mio lavoro è cosciente da 30 anni, che il problema è il potere in monopolio di medici ospedali, e che l'Obama che era solo preso in giro, anche Obama ha solo preso in giro, perché era anche lui proprietà dell'America Medical Association, ma vogliono combattere quella roba lì, si focalizzano su quella roba lì, perché se arrivano che focalizzano su quella roba lì, che la sanità non funziona e bla bla bla, e poi mi dicono che sono con Putin, e perdono gli alleati. Scusa. Salute. Della polvere sull'imlaso. Adesso sto prendendo 3-4 volte perché ho sentito entrare il polvere. Non ti preoccupare. Ecco, e quindi questa gente è anche sciocca, e quindi sono in mala fede in realtà. In realtà loro non vogliono combattere né questo né quello. Loro vogliono semplicemente, sono dei Marco Rizzo, uno che si guadagna a vivere facendo la pagliacciata del comunista, e recitando una parte, perché purtroppo c'è della gente confusa, che pensa che esista il comunismo falce al martello, e sia un'alternativa fattibile e magica alle ristrettezze in cui vivono. Quindi questi qua, molto francamente, te lo dico, a mio avviso, sono in mala fede. Non c'entra nemmeno l'America. Anche perché l'America sono tutta la gente che se la sogna questi che vogliono sempre venire qua. Sono gente che a me viene dicendo ma sei ria a Chicago? Perché non sei rimasto a Chicago? È più importante. Ma sei ria a Stanford? Perché non sei stato a Stanford? Ma perché sei andato da Stanford a Minnesota? C'è Cassimino. Mi è venuto in mente un nome su tutti, a Rovelli mi è venuto in mente. Ma davvero avevi un'offerta da Yale? Sì, e ora? Ma a me piacerebbe tanto. E non chiamarmi collega, che non siamo colleghi. Eh sì, sì, è vero, è vero. Ma poi dall'altra parte, la mala fede, io credo ci sia assolutamente, ed è provata anche dal fatto del modo con cui viene utilizzato ogni momento. Cosa stai facendo, Michele? Che cosa stai facendo, Michele? Torna con noi. Torna con noi. Che ti vedono anche in riunione, altrimenti così. È finito l'altro mito, hai visto che ho cambiato schermo? Ho visto, ho visto, ho visto. Mi sono messo, perché adesso ti ho spostato sullo schermo occupato da loro e faccio le facce, non devo più nascondere. Smetti di fare casino con le videocamere e con i microfoni che poi ti perdiamo di nuovo. No, comunque, comunque... Adesso siamo rimasti solo tu e io e 1200 spettatori. Solo tu e io e 1200 spettatori? Un ambiente in. 1300 ormai comunque, mettete mi piace. 1200, giovani e forti. Comunque, no, dicevo, questa malafede si vede anche del modo in cui viene utilizzato ogni volta l'argomento del nucleare che viene utilizzato da Putin. Cioè, anche questa cosa qua del... Sì, questa cosa del nucleare. Basta avere un minimo di conoscenza storica per sapere che sono ormai, cosa sono, cinque anni, io leggevo oggi un articolo sul New York Times che dicevano che sono cinque anni che la Russia viola il New Start. Il New Start è stato voluto da Obama, è stato firmato, si doveva arrivare al 75% di riduzione di testate nucleari, a conti fatti, negli Stati Uniti è una cosa che hanno fatto, la Russia l'ha fatto fino al 2016, 17, 18 e poi ha smesso, guarda caso, ha smesso dopo la sua invasione della Crimea nel 2014. Anche lì, cioè nel senso, tutti quanti però a dire oh mio Dio, adesso la Russia esce dal New Start, ma se sono sei anni che viola il New Start e comunque questo non ha portato a movimenti che abbiano sommovimentato l'arsenale nucleare russo, attualmente non ci sono motivi per credere che la Russia stia effettivamente cercando un'escalation atomica, sono soltanto chiacchiere che servono per giocare sul ventre molle del nostro mondo democratico che è la paura della bomba e la paura della bomba che da sempre viene diciamo così come potrei dire ci si dimentica e allora lì mi piacerebbe veramente fare una bella discussione con te non oggi ma un'altra volta ci si dimentica di che cos'è la Mutual Assured Destruction ci si dimentica del fatto che se noi andiamo a guardare la guerra fredda ciò che ha salvato veramente dall'olocausto atomico come si suol dire è stato il deterrente reciproco cioè il fatto che ognuno sapeva che qualsiasi prima bomba lanciata sarebbe stata seguita da una serie di inevitabili bombe che avrebbe distrutto tutti e tutto oggi non siamo messi diversamente però ancora dopo un anno di conflitto Putin dice qualcosa sul nucleare e ogni volta lui cambia un filino la versione guarda te e tutti quanti oddio ma allora c'è la possibilità ma allora c'è la possibilità e lì vedi un po' la malafede un po' infatti il fatto che la nostra la nostra opinione pubblica non è abituata a gestire l'emotività ecco questo è un problema piuttosto forte che cosa succede oggi abbiamo problemi con la videocamera scusate oggi giochiamo con le telecamere oggi abbiamo problemi con la videocamera sorry il vostro sofisticato sistema è il gatto e non il source scusate avete comprato dal gatto non dal source esatto esatto bella bella questa bella il gatto dei super scogito studios in ventura valley new york no los angeles california adesso forse ci siamo imitano le piccole telecamere dell'edificio di lavoro dello sderenato buldrine siccome io le cambio tocca me metto de prof no sai che ti metto de prof e ora c'è un tempo che provi a te feda bello 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 questo cambio di prospettiva cambio di prospettiva di colori è cambiato tutto sei in un altro universo c'è fede che ha una sincope in questo momento qua sei giallo di là sei blu la foto del figlioletto quando era piccolo i primi disegni e boldrine quando aveva le gambe che funzionava si vede no non si vede non si vede è appena fuori dell'inguale così si vede così si vede si tira su boh andiamo avanti va col putti ma sai io è che diciamo io e te poi rischiano di arrivare quelli come prima che dicono boldrine dice ste robe per compiacere rick rick dice ste robe per compiacere boldrine se la cantano e se la suonano ma sono due servi di non si capisce cosa a me piacerebbe davvero che queste persone volessero con un minimo di onestà umana venire a discutere trovatene uno per favore capuozzo capuozzo che convincete il capuozzo che doveva querelarmi perché gli ho detto che ero un negazionista certo che sei un negazionista ha negato buccia fino all'ultimo ho visto questi negare il massacro del teatro di mariopoli si sono mai scusati sti grandissimi figli di zoccola no sti delinquenti perché sono dei delinquenti tutti quelli che hanno negato che hanno fatto propaga scritto titoloni inventandosi che non c'era nessuno che non hanno ammazzato nessuno era tutta una fabbricazione sono delle persone delinquenziali altro che querelare boldrine perché dice che i politici rubano quando rubano questi perché nessuno il popolo li ha querelato questi si che hanno diffamato e per davvero raccontando fatti mai avvenuti inventandosi però non hanno coraggio di venire qua i ragazzi e le persone che ascoltano dovrebbero rendersi conti di questa cosa guardate ve ne frotterete perché siete diventati tutti cinici ma l'onestà intellettuale un pochino nella vita conta eh ve lo posso assicurare almeno fra le persone per bene e molto del cosiddetto successo a cui tutti aspirano se non è il successo appunto della rubi ruba cuori dipende dall'onestà intellettuale perché l'altra alternativa per avere successo ma io non lo chiamerei così lo chiamerei successo ok ce l'avete se seguite la strada di rubi ruba cuori del suo padrone dottore di lavoro come chiamatelo come volete ok fra persone che fanno lavori tipo il mio o tipo quello di Riccardo o altri ma anche se fai l'ingegnere l'onestà intellettuale serve perché per me ti permette di costruire di correggere l'errore che aveva fatto crollare il ponte sì sì assolutamente no guarda quello che dici è credo fondamentale perché in questo momento con prima la pandemia e poi la guerra io sto vedendo quanto in realtà coloro che sono hanno mancato di onestà intellettuale in realtà poi finiscono per pagarla finendo il dimenticatoio cioè adesso obiettivamente ragazzi parliamoci chiaro ma andate a guardare quelli che dicevano a inizio pandemia zero covid zero covid adesso che la Cina come io non voglio dire il ve l'avevamo detto ma come anche io e Michele e io in altri video avevamo detto ancora durante il primo lockdown la politica zero covid sarebbe stata pagata carissima perché adesso voi vi trovate con una Cina con milioni di persone che hanno fatto due anni di lockdown durissimo e comunque adesso vedono morire i genitori io leggevo un articolo io prima o poi ci faccio ci faccio un video su quello un articolo che il governo cinese dice 85.000 morti dall'apertura della politica zero covid le stime in base ai picchi di contagi parlano di una cifra conservativa di un milione e mezzo di morti siamo a questi livelli quindi tu hai una Cina che ha chiuso in casa le persone in galera per due anni e adesso perché è stata costretta a riaprire perché altrimenti crollava tutto quanto si trovano comunque a morire dove sono adesso quelli che dicevano a inizio pandemia ah no in realtà zero covid lockdown duri bisogna stare chiusi in casa l'unico modo è stare in casa e via dicendo sono tutti spariti tutti spariti oppure quelli del green pass quelli che dicevano che il green pass era la nuova Auschwitz il green pass è stato fastidioso indubbiamente sono stati sei mesi di fastidio fastidio effettivamente ve lo dico è stato fastidioso anche per me che facevo anche gli eventi dal vivo e porca miseria era una rottura di coglioni ma dove è finita l'Auschwitz ma dove cazzo avete visto dov'è che avete visto la deriva fascista la deriva autoritarista sei mesi con 200.000 multe di cui praticamente pagate meno di 15.000 questi sono i numeri che mi sono arrivati tutti gli altri vanno al giudice di pace e il giudice di pace dicono vabbè ma era stato di emergenza e il giudice di pace straccia le multe di cosa stiamo parlando però quelli che hanno fatto proclama video contro la deriva autoritaria tutti spariti non ne parla più nessuno e vaffanculo capito allora abbiate almeno la decenza di dire sì magari ho esagerato cioè no no mi sono sbagliato ma magari ho esagerato mi sono fatto prendere mi sono fatto prendere la mano in quel momento perché magari Auschwitz la gente tatuata che entrava nell'edificio con Arbeit McFrey era un po' diverso rispetto ad avere il Green Pass e di nuovo ricordiamoci che il Green Pass è stata una misura fastidiosa ma niente più di questo non ha fatto morti non ha fatto niente di niente e adesso c'è questa roba della guerra ok allora mi chiedo quando poi si arriverà effettivamente alla fine della fiera prima o poi temo più poi che prima anche questa vicenda troverà il suo epilogo che speriamo non sia triste come tanti sperano dove starà chi avrà detto qualcosa che poi è stato contradditto dai fatti bisogna sempre sparire giocando su cosa sul fatto che abbiamo la memoria corta perché poi è questo il punto tutta questa gente spara puttanate per propri interessi soltanto nella speranza ovviamente nella speranza di imbroccarci e poi se non ci imbroccano dicono vabbè tanto la gente se la dimentica queste cose ed è veramente una schifezza questo atteggiamento è veramente una schifezza e il fatto che il discorso di Putin di oggi sia esattamente espresso con gli stessi concetti che abbiamo sentito un anno fa e non è cambiato nulla ancora la chiamo operazione speciale ancora questa cosa del nucleare ancora questa cosa del lobby gay lobby omosessuale lobby di drogati che governa ancora con l'attacco dell'occidente al Donbass ancora con queste stronzate ancora gente che ci abbocca e dico ma 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 non so neanche più cioè nel senso tu dici giustamente è disonestà intellettuale forse sono tutti coglioni forse sono tutti coglioni e c'ha ragione i cruciani e allora sai cosa facciamo Michele Boldrin facciamo tutti la zanzara affanculo a Liberi Oltre affanculo a Rick Dufer affanculo a Filosofia facciamo la zanzara ma andiamo a cagare tutti facciamo gli stronzi tanto il carattere ce l'abbiamo capito e invece non voglio rendermi a questa cosa qua spero che ci sia ancora un barlume di speranza ma non so allora sì credo che la frase che dice ci sono un po' di coglioni è vera tu ricordi l'avrò tirato fuori in questi ormai sono quattro anni che ci parliamo non settimanalmente ma quasi insomma io tiro fuori spesso questa cosa che mi ossessiona su cui ecco pubblicità progresso parlerò alla serie della Cattolica di Milano a sto punto ho deciso di accettare di andare devo organizzare il viaggio perché vabbè il giorno 17 marzo a credo no il giorno 15 scusate il giorno 15 forse il 17 sarò all'Università di Trento ah proprio non all'Università di Trento forse sarò a Trento dove l'Università di Trento ho boicottato l'invito fatto all'organizzazione gli studenti quali hanno trovato assieme alla Cassa di Trento che gli offre ospitalità quindi ci sarò e tanto per far contento Roventini credo che l'8 giugno sarò alla scuola di Sant'Anna dove stai in Pisa a raccontare delle cose tutti contenti tutti sai che aspetta ti interrompo sai che per colpa tutto gratis non faccio il pagamento non c'è da comprare il biglietto come eri sai che per via vaffanculo sai che tu sei pagato dai poteri forti noi no sai che tra d'ora in poi mi ho fatto pagare spese e via sai che a causa della nostra cacchierata su incel incel e femminismo e via dicendo è stata un'associazione ha boicottato una mia ospitata in un evento in cui dovevo discutere di femminismo ho detto no se c'è Rick Dufer quello che parla con Boldrin di incel e femminismo no è stato chi sono ma quali sono gli incel o i femministi no femministe 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 sono incazzate anche gli incel sono incazzati ma come si sono incazzate che abbiamo detto quasi che insomma che ci sono dovrebbero essere stati quelli degli incel comunque comunque sappi che c'è la relazione femminista è tonte c'è del boicottare madonna santa è piena qui che conoscevo me non avrei mai detto nella roba elzere è invesse è invesse no comunque dai torniamo torniamo all'argomento così poi andiamo a concludere e rispondiamo qualche domanda cosa stai facendo torniamo a fare domanda ma davvero organizzate voi che siete influencer convincete i capuozzo i piro giuro a piro non lo bastono mi ha insultato un altro dell'alcolizzato se bevesse alcolizzato poi in questo periodo che con la storia che ho deciso oh sono arrivato a 79 chili e mezzo ragazzi sono contentissimo torno a 75 per andare a scalare guarda cosa faccio quando parlo con me e tu sei distrattissimo cioè oggi sei distrattissimo sono distrattissimo sono qua che ti seguo come faccio ad essere distratti è un po' di HD oggi prima ero distratto perché c'erano questi qua che parlavano di che dovevamo fare una roba strana col filtro di mio nonno sui dati ma io davvero avrei voglia di vedere ma non dico cacciare che c'è poverino gli vengono i complessi qualcuno di questi che vanno per la maggiore a discutere tranquillamente con due numeri con due dati a spiegarmi com'è che è la Nato che ha provocato ma uno dei pochi uno dei pochi che lo fa è Fusaro ma lo fa soltanto perché ce la faccia sufficientemente di bronzo Fusaro Fusaro non è a livello dice scemenze Fusaro ci ho dibattuto una volta povero Diego cioè è un ragazzino però è molto seguito però è molto seguito non ci fa le cose ha sviluppato una particola ars retorica molto abile fatta di nomi e parole con almeno cinque sillabe e in fiocchetta sempre l'ho fatto un dibattito con Diego ma non è divertente ti viene da ridere no no c'è uno serio zoc bello bello mi è piaciuto mi è piaciuto ma durante durante la live la live lunga di Liberi Oltre c'è qualche ospite contrario o non siamo riusciti a raccogliere proprio nessuno no noi li invitiamo con piacere e se qualcuno davvero c'è una live di Liberi Oltre che inizia alle 4 di mattina del venerdì 24 e continua praticamente fino per 48 ore fino a più o meno a mezzanotte al 25 ci collegheremo con tutti a questo punto sono 70-80 i sitini in giro tra Italia e il resto d'Europa c'è uno anche in Polonia c'è stato comunicato oggi da un gruppo di amici che seguono lì se venisse qualcuno di ragionevole in grado di argomentare sulla responsabilità occidentale o quello che è o anche su questa teoria che è tutta una guerra per proxy organizzata dalla Russia guardate che sia diventata in parte una guerra fra occidente e Russia è vero ma è una scelta della Russia la Russia ha scelto di comportarsi in una maniera tale per cui a fronte dopo 30 anni che li manteniamo li sussidiamo li foraggiamo gli apriamo le braccia gli compriamo quel pochissimo che hanno cioè gas e petrolio e un po' di materie prima perché non hanno altro da venderci e in cambio gli abbiamo aperto le porte a tutto al fondo monetario internazionale alla World Bank al WTO a tutto cazzo cioè tutti i consessi del mondo le banche la tecnologia gli scambi culturali eccetera hanno deciso che no che siccome la loro follia contro i gay contro questo contro quello contro il satanismo nel nome della nuova Roma implicava far fuori gli ucraini loro se ne fregano di tutto e ci piegheranno bastonandoci non ci riuscirete non riuscirete a piegarci bastonandoci è triste dopodiché dovremmo rivedere che è la vera cosa su cui si discute tutti quella cosa che vi raccontiniamo a discutere che dovremmo cercare di non fidarci di voi per decenni a venire e lo dico con brutalità dovremmo non fidarci del russo medio del cittadino russo medio mi dispiace che imparino sulla propria pelle cosa vuol dire essere discriminati e discriminare adesso finiranno tutti vediamo cosa dice la chat ecco ho detto la frase ma mi sto convincendo sempre di più specialmente dalla reazione di russi e russe che conosco che dovremmo seriamente prendere in considerazione questo problema c'è un problema di nazionalismo esasperato di razzismo di finta superiorità finta superiorità perché è un popolo convinto di essere superiore agli altri che per carità è uguale agli altri come popolo se tutti i popoli più o meno sono uguali ma in termini di realizzazioni concrete negli ultimi cento anni c'è veramente poco veramente poco voi che continuate a menzionare Stravinsky e Rachmanichov e Mayakovsky e Dostoyevsky capite cioè da un popolo di centocinquanta milioni di persone negli ultimi anni decenni abbiamo visto poco sono arrivati prima nello spazio Michele sono arrivati prima nello spazio sì d'accordo sono arrivati prima nello spazio certo vabbè cosa vuoi le sono sì qui in questo discorso ci eravamo molto d'accordo io credo che la la cattiva coscienza in casa nostra sia il loro più grande achievement politico cioè nel senso l'aver creato con la propaganda questa fascinazione esotica alimentata da un antioccidentalismo che in realtà è tirarsi la zappa sulle palle da parte nostra è la loro arma più forte questo l'abbiamo visto l'abbiamo detto tante volte quindi se vogliamo trovare un campo in cui la Russia negli ultimi almeno decenni è riuscita a surclassare l'occidente è la propaganda politica il modo con cui sono riuscite ad arrivare e l'abbiamo visto anche con le elezioni 2016 insomma hanno capito tanto in molti contesti qual è il ventre molle del nostro sistema ed è l'unica arma vera che hanno perché poi dall'altra parte da un punto di vista militare questi l'ultima cosa che vorrebbero sarebbe scatenare uno scontro militare con la Nato evidentemente quindi però questo non ci toglie il pensiero che faranno di tutto per provocare uno scontro per far ricadere la responsabilità sui paesi occidentali cioè nel senso questo infatti adesso insomma il rischio che il conflitto poi vada a traccimare in Moldavia e via dicendo no dici tu dici che non è non è non c'è quella avete notato che non è partita mezzo missile e mezzo finché finché Biden era era a Kiev sì 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 è vero hanno fermato come da me pensate che sia successo per caso gli hanno telefonato il giorno prima e dice il presidente va a Kiev occhio qualsiasi missile nel raggio verrebbe interpretato come azione ostile intenzionale dichiarazione di guerra fate Vobis sì sì e hanno fatto Vobis hanno fatto Vobis Vobis questo come parlo in oro Covoggio Covoggio ma non c'è le domande adesso ne ho mai domande adesso ne ho mai domande le domande mi piace sempre o avete visto che a Wagner li stanno mandando a fare in culo hanno detto siccome aveva paura che se lo fregasse perché ormai è una guerra fa freddo d'atari ha paura di colpi di palazzo e tu non ti mando più le armi intanto gli ha fatti fuori a tutti o tre quarti Wagner vediamo cosa succede vediamo cosa succede speriamo speriamo che ci siano cioè che i segnali positivi siano effettivi segnali positivi e che non siano fraintendimenti però vediamo vediamo io non avendo tutte le informazioni in mano faccio fatica a fare previsioni però qualche segnale buono c'è vediamo che cosa succede allora adesso noi passiamo a leggere un po' le domande prima invito di nuovo tutto il pubblico a seguire o i sit-in nelle varie piazze d'italia oppure la live su libri oltre venerdì e sabato 24-25 ci saranno un sacco di ospiti parteciperò anche io il venerdì pomeriggio e ci sarà la possibilità insomma di ragionare un po' con tante persone su un anno di conflitto e di raccogliere un po' di idee ma soprattutto di far parlare non soltanto del conflitto ma di quella che è la verità sul conflitto cioè il conflitto è stato scatenato dalla potenza ostile all'occidente all'ucraina una potenza aggressiva e violenta che non sa mettere da parte il suo ottocento e in questo modo diciamo così ha reagito alla sua diciamo così ormai alla sua estinzione con l'unica arma che l'ottocento poteva mettere in campo cioè la violenza la guerra l'invasione militare parlatene fate girare questo messaggio è molto importante e vi aspettiamo poi in live su Liberi Oltre e con tutte le prossime iniziative adesso se siete in live non uscite perché leggiamo qualche commento o a tutti gli altri condividete e diffondete è molto importante grazie a tutti e alla prossima grazie a tutti